Il 18 ottobre a Palazzo Lascaris è stata inaugurata la mostra fotografica Le Eccellenze Artigiane, scatti di Lella Beretta. Il Piemonte punta da tempo al settore dell'artigianato come cardine dell'economia da 15 anni con il marchio di eccellenze dal 2009 con una legge ad hoc. Le immagini presentate testimoniano l'abilità dei nostri artigiani che affonda le radici nella laboriosità e nell'identità piemontese capace di proiettarsi verso il futuro. La mostra è aperta al pubblico ingresso libero fino al 24 novembre dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18 e al sabato dalle 10 alle 12 e 30.